Queste due persone che vedete qui sul palco, Paride e Lorenzo, ci seguono ormai da tanti anni. Sono veramente degli amici di tutti i nostri ragazzi. Guarda, Lorenzo e Paride, questa pergamena è fatta a mano, quindi non ha un valore molto più. Te lo dirò, l'ho fatta io a mano, quindi sono sicuro che è fatta a mano. E c'è scritto a Lorenzo e Paride per l'amicizia sincera, sempre dimostrata, ed è offerta da tutti i ragazzi e le ragazze dello sport. Grazie mille. E la nuove come vi faccio il video. Grazie a tutti voi. Velo ragazzi, un passaggio. Grazie. Non sapete quanto mi ha seguito, ragazzi. Grazie a voi. Questo lo incornizio e ci orteniamo.